Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ascolterà questa registrazione. Ci troviamo ad avviare il secondo laboratorio in ordine di calendario nell'ambito della formazione dei docenti per l'educazione civica ambito numero 6 Lombardia, quindi Brescia, Interland e Valtrompia. Ieri abbiamo insieme al gruppo della secondaria primo grado, edizione D, registrato la parte relativa alla normativa, quindi l'allegato A e l'allegato B delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Quindi io oggi non mi soffermerò su questo primo aspetto, cioè sull'introduzione e la normativa, e andrò invece a registrare, quindi a mettere a disposizione eventualmente anche di chi non ha potuto partecipare oggi, la seconda parte, cioè il nodo tematico, il glossario, l'interconnessione e la trasversalità, prendendo spunto da Cittadino Digitale, che è un corso online offerto dai Twinning, da un volume in free, download, copyright e licenza aperte, dal percorso che vi consiglio di realizzare, quello della e-policy con generazioni connesse, e da una breve analisi di Digicomp Edu e Digicomp 2.1. Vedremo cosa, probabilmente solo metà di questo percorso sarà registrato, vedremo se ci saranno interventi, qualora ci siano interventi, io interrompo la registrazione e abbiamo il dibattito. Quindi questa è la roadmap fino al punto 2. Come dicevo poco fa, nelle due chiacchiere informali che ci siamo scambiati con molta serenità, nella terza parte ci sarà una fase più laboratoriale di progettazione, quindi ci divideremo in stanze virtuali, nelle cosiddette breakout room, e ci confronteremo su proposte o anche su curricoli già avviati, best practice già avviate rispetto all'educazione digitale, quindi all'educazione civica digitale. Predisporremo una cartella in Google Drive, in cui ogni stanza virtuale caricherà eventuali materiali. Qualora così non sia ancora possibile condividerli, la cartella resterà comunque aperta, anche terminata la formazione a maggio, e quindi sarà occasione di confronto e spero di disseminazione, appunto proprio in riferimento a questa formazione a cascata che siete invitati a realizzare nei vostri istituti. Quindi materiali, io ho citato, curriculum, schede di attività, risorse integrative, vedremo qualche esempio durante la presentazione che vi condividerò al termine della registrazione. Quindi la prima slide che ho analizzato ieri, e che quindi troverete in registrazione, era riguardante l'allegato A, che ognuno di voi avrà sicuramente letto, e la legge 92-2019 in gazzetta ufficiale. Qualche stralcio, quindi pagina 2 dell'allegato A, alla cittadinanza digitale è dedicato l'intero articolo 5 della legge 92-2019, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curriculum di istituto, con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti. Per cittadinanza digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. Sviluppare questa capacità a scuola con studenti che sono già immersi nel web significa consentire l'acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare al mondo. Questo è proprio quanto recita l'allegato A. A pagina 4 troviamo delle note sulla valutazione, quindi con riferimenti precisi al primo e al secondo ciclo. Nell'allegato A, sempre a pagina 4, si parla di elementi conoscitivi che devono essere raccolti dall'intero team e dal consiglio di classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari, quindi la valutazione di cui parleremo nel nostro modulo finale, di cui sono referente, deve essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze. Quindi nel vostro lavoro in breakout room sarete invitati a considerare di tutto ciò che presenterete anche una rubrica valutativa, perché nel modulo sulla valutazione cercheremo di costruire per la secondaria, secondo grado, primo grado, primaria, infanzia, per ciascuno delle edizioni di questo corso, uno strumento di autovalutazione. Sulla base di quello strumento che vi ho suggerito di utilizzare per l'autovalutazione della competenza digitale dell'educatore, quel link che vi ho fornito sabato, per chi non è presente comunque trova il link nella presentazione. Quindi si parla di strumenti condivisi, come rubriche, griglie di osservazione, ne parleremo nel modulo della valutazione, e di percorsi interdisciplinari. Sempre a pagina 4 dell'allegato A, si fa riferimento al fatto che questo regime riguarderà non solo quest'anno scolastico, ma 21-22 e 22-23. Quindi il lavoro che noi ci apprestiamo a svolgere, che già abbiamo svolto ovviamente nel primo periodo, diciamo il lavoro che ci apprestiamo a condividere, ci servirà come base per la riflessione fino al 2023. Quindi, in quel momento dovrebbero, insomma, così ci è stato promesso, arrivare delle linee guida, delle indicazioni a livello ministeriale, sugli obiettivi, risultati di apprendimento, e competenze che in questo momento invece sono a carico dei collegi docenti nella propria autonomia di sperimentazione. Nell'allegato B, invece, si fa riferimento a un concetto molto bello, secondo me, del prendersi cura di sé, della comunità e dell'ambiente. Quindi, l'alunno è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Quindi, l'alunno è in grado di distinguere diversi device e di utilizzarli correttamente, rispettare comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. Sempre nell'allegato B si accenna brevemente al concetto di identità digitale da distinguere con un'identità reale ma da collocare in una seria disposizione in termini di privacy e di valori, quindi un sistema valoriale individuale e collettivo da preservare. Nella slide successiva entriamo già nel merito dello sviluppo di queste linee guida. Ieri, al termine di questa brevissima esposizione del quadro concettuale, ho sottoposto ai docenti un Nearpod. Quindi, ho costruito insieme a loro un Nearpod, cioè una presentazione interattiva che alternava queste slide a delle attività come fill in the blanks, quiz, o open-ended questions. Oggi faremo la stessa cosa rispetto ad alcuni percorsi che ora andiamo a suggerire. Il primo è quello di Azzurro Academy, cioè quello di Telefono Azzurro. È un corso gratuito online, questo è il link per il login, realizzato con il supporto di Google. Io non è che sono così promotrice né formatrice Google o Microsoft, anzi, promuovo la open education, ma ovviamente non posso non consigliarvi questo corso, davvero molto ben fatto, ben costruito, e che ognuno di noi può consigliare ai docenti, colleghi referenti nei vari consigli di classe, quindi nell'ambito della formazione a cascata, on the job, in quanto è un MOOC, quindi un Massive Open Online Course, un corso assolutamente gratuito, cui possiamo accedere quando vogliamo, anche in piena notte, possiamo ogni volta che terminiamo uno step, così, metterci alla prova con un brevissimo test in autovalutazione e ricevere poi una certificazione finale che ci può servire all'interno dell'istituto per, appunto, effettuare formazione rispetto ai nostri colleghi e soprattutto per metterla in pratica con i nostri alunni. Quindi, si forniscono, nell'ambito di questo corso, strumenti e competenze digitali specifiche e voi probabilmente avrete già sentito dei webinar di telefono azzurro, si prefigge già dall'inizio del lockdown in modo massiccio di coinvolgere sia genitori che studenti e docenti nella responsabilizzazione, consapevolizzazione rispetto al comportamento nel web e rispetto, appunto, ad una forma innovativa di cittadinanza digitale. Il primo modulo, allora, questi link, ora adesso sono attivi perché io sono loggata, ma quando voi ritornerete su questa presentazione, se vorrete, non saranno più attivi, dovrete fare voi il login. Chiaro che se io adesso come farò entro, devo loggarmi, lo faccio con il mio account Google di Media Education con cui mi sono iscritta a questo corso e quindi entrando voi arrivate a questo primo, ad esempio, bellissimo webinar di Simona Caravita che è una esperta in cyberbullismo e lavora per l'Università Cattolica del Sacro Cuore ma ha anche un'esperienza in Norvegia, all'Università norvegese. Quindi, questo link funziona, questo webinar dura un'ora e quaranta, un'ora e trentanove, ve lo consiglio vivamente perché vi fornisce quelle informazioni ok, il link funziona per così, per un lavoro appunto on the job. L'argomento è la comunicazione e il linguaggio online, attività per il secondo ciclo. Che cosa potete ancora ricavare da questo da questa pagina, da questo portale? Questo è l'ulteriore link, questo è il video content, questo è il link a tutto il corso. Potete accedere a domande e risposte ad ulteriori webinar, ad esempio prima abbiamo visto questo di Simona Caravita e Marzia Calvano, il successivo è di Beatrice Lomaglio che è vicepresidente della Nazionale dell'Associazione Italiana Formatori e di Gabriele Benassi che è consulente Piano Nazionale Scuola Digitale nonché docente dell'Equipe Formativa Nazionale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna. Il terzo webinar invece è relativo alla comunicazione e linguaggio online online è un questo è veramente interessantissimo ve lo consiglio io l'ho sentito live ma ne potete fruire tranquillamente in asincrono è condotto da Beatrice Lomaglio e da Letizia Atti che è un'educatrice digitale bello questo termine educatrice digitale e formatrice poi ci sono tutti questi box cassetta degli attrezzi approfondimenti valutazione dell'apprendimento nonché tutti i presupposti per arrivare se vi interessa al certificato di partecipazione quindi aver ottenuto superato la valutazione richiesta le attività varie sia riguardanti il modulo 1 naturalmente che al modulo 2 che è riferito alla condivisione privacy e digital reputation quindi anche in questo caso avete dei webinar in collaborazione con Capo Store questa volta condotti da Guido Scorza che è componente del collegio del garante per la protezione dei dati personali e da Marina Imperato che è dirigente scolastico distaccata per gli ordinamenti scolastici e valutazioni il successivo condivisione privacy e digital reputation è condotto da Silvia Santagada che è consigliere regione Liguria formatore consulente privacy e da Gabriele Benassi che è anche egli consulente piano nazionale scuola digitale e docente dell'equip formativa nazionale dell'USR Emilia Romagna da cui viene ancora il nostro ministro insomma hanno lavorato benissimo anche il professor Spinelli dirigente dell'Iceo Gambara concorda sul fatto che l'USR Emilia Romagna ha aiutato tantissimo durante il lockdown i dirigenti insieme all'USR Beneto il webinar del tre del secondo modulo è condotto invece da Irene Molini che è formatore consulente privacy e da Letizia Atti che già era presente nel modulo precedente appunto educatrice digitale e formatrice per cui anche in questo caso cassetta degli attrezzi cassetta degli approfondimenti valutazione dell'apprendimento il terzo modulo gaming e videogiochi online so che siamo torciamo sempre un pochino il naso rispetto a queste cose però questa è la dimensione in cui vivono i ragazzi per cui insomma bisogna esplorarla il modulo tre appunto tratta il tema dei videogiochi del gaming analizza i diversi tipi di gioco le dinamiche di interazione anche tramite il protagonismo attivo degli alunni e delle alunne quindi sollecita vengono sollecitate anche quelle che possono essere definite competenze da valorizzare da promuovere come la creatività e la collaborazione i contenuti quindi permetteranno di approfondire sia i potenziali rischi che tutte quelle che possono invece diventare risorse attraverso il gaming cioè la famosa gamification il primo webinar è condotto da Davide Massaro che è professore ordinario di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla cattolica di Milano da Luca Milani che è professore ordinario di psicologia sempre presso la cattolica di Milano e da Sabina Maraffi che è dirigente scolastico dell'istituto comprensivo via Ceneda di Roma anche qui cassetta degli attrezzi cassetta approfondimenti eccetera la sezione successiva è quella della valutazione finale quindi una volta che sono stati espletati tutti i moduli si accede a questo questionario in autovalutazione e si ottiene poi come vi dicevo nella presentazione il badge finale quindi io qui vi ho messo un brevissimo abstract di questi di questi moduli che vi consiglio assolutamente e che probabilmente consiglierete anche voi insomma se lo ritenete opportuno ai docenti che avvicinerete durante la formazione ecco il secondo volume la seconda opportunità formativa che io vi vi consiglio è questo volumetto potete scaricarlo digitando cioè cliccando su questo link che riguarda le frequently asked questions diritto d'autore copyright e licenze aperte per la cultura nel web è recentissimo appena appena uscito a cura del gruppo di lavoro digital culture heritage di come italia quindi che cosa questo è la pagina per il download brevemente di che cosa ci si occupa in questo preziosissimo a mio parere volume nella prima parte delle definizioni quindi cosa si intende per diritto d'autore per copyright quali sono le opere protette esiste sempre un autore cosa si intende per opere composte e opere collettive quali sono le caratteristiche dei diritti morali e dei diritti patrimoniali d'autore quanto dura la protezione dei diritti morali e diritti patrimoniali a chi appartiene il diritto d'autore cosa si intende per pubblico dominio si può rinunciare al diritto d'autore per quanto riguarda le fotografie cosa che riguarda moltissimo i nostri studenti che stanno realizzando degli artefatti a volte in modo un po' distratto quante tipologie di fotografie esistono quali fotografie sono protette dal diritto d'autore esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela quali sono i diritti di utilizzazione posso fare un collage di immagini esistono casi di libere utilizzazioni di fotografie quali misure tecnologiche posso adottare per proteggere le fotografie digitali mie ovviamente possono essere cedute o circolare liberamente ok poi c'è una sezione sulle riproduzioni 2D 3D riguardo i testi quindi importantissimo anche questo possibile fotocopiare o riprodurre digitalmente monografie o periodici a chi appartengono i contenuti realizzati da dipendenti freelance consulenti quanto e come è possibile digitalizzare un catalogo di una mostra per riprodurre le opere all'interno del catalogo e digitalizzarlo è necessario ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti poi c'è una sezione riguardante le banche dati gli open data i contenuti audio anche questi importantissimi perché i ragazzi stanno facendo bottino di queste musiche che trovano a volte non non libere da copyright quindi quali diritti di utilizzazione economica sono coinvolti nell'abbinamento di musica alle immagini a quali titolari dei diritti devo chiedere le autorizzazioni posso utilizzare opere musicali rilasciate sotto licenza creative commons podcast e webinar qui una semplice definizione cos'è un podcast cos'è un webinar cos'è un podcast o webinar live o streaming posso liberamente realizzare un podcast o un webinar per l'ente culturale per il quale collaboro se registro se registro un podcast o un webinar live o streaming con altri partecipanti devo ottenere il loro consenso per la diffusione in che forma scritta orale deve essere raccolto tale consenso condivisione quindi posso liberamente caricare sul sito internet dell'ente culturale con cui collaboro risorse digitali trovate su internet come devo citare la fonte sito internet cos'è un sito internet cos'è un blog o video blog chi regola internet e il sistema di nomi a dominio che regole di base devo rispettare per pubblicare nel mio sito dominio del sito app quindi cos'è un app social network cos'è un social media o social network qual'è la differenza tra pagina profilo e gruppo quali accorgimenti adottare prima della pubblicazione messaggistica istantanea questo è un argomento di urgenza assoluta a mio parere cos'è la messaggistica istantanea quali regole si applicano alla messaggistica quindi qual è l'anetichette posso liberamente aprire un canale per l'ente culturale per il quale lavoro posso liberamente condividere inoltrare scaricare modificare contenuti ricevuti in che forma appunto anche in questo caso deve essere raccolto il consenso e se l'autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso come devo comportarmi posso liberamente caricare contenuti trovati in internet licenze e riuso appunto per rispondere a questa domanda c'è poi la sezione 4 dati e licenze e uso immagini di beni culturali pubblici in pubblico dominio open access e licenze d'uso nei casi dei musei casi nazionali e internazionali perché questo volume è proprio dedicato a operatori culturali museali non a caso mi soffermo con voi perché siete appunto in area letteraria per cui presumo che molti di voi abbiano o partecipato a call scritto pubblicato volumi o comunque collaborato con musei quindi credo che sia per voi particolarmente interessante la quinta sezione problemi e soluzioni quindi illeciti contratti e liberatorie note legali eccezioni ecco io trovo questo volume che è pur sintetico vedete nelle risposte sono le risposte sono sintetiche essenziali davvero molto di quello che si può fare nella formazione a cascata e questo lo trovate nella slide diritto d'autore copyright e licenza aperte la successiva invece vi rimanda al sito di Agid quindi parliamo di sicurezza parliamo di comunicazione sicura di cyber security quindi di campagna control phishing e di linee guida quindi se ad esempio digitiamo sul secondo link troviamo la pagina cyber security in corso la campagna di phishing su outlook che è partita nell'aprile 2020 quindi in pieno in pieno lockdown qui invece al terzo link trovate le linee guida quindi regolamento per l'adozione delle linee guida lo potete scaricare in pdf per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale e come ultimo ho voluto mettervi anche questo link perché credo sia importante in questo momento in cui ci stiamo vaccinando in cui dobbiamo comunque anche informare gli studenti che a loro volta magari portano queste informazioni ai nonni o comunque a persone che non hanno la possibilità di accedere all'informazione quindi la pagina di agit per la sanità digitale quindi strategia per la crescita digitale piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione e poi nello specifico ecosistema sanità cosa è il fascicolo sanitario elettronico che in questi giorni stiamo consultando per vedere la nostra data per la vaccinazione cos'è un centro unico di prenotazione la tessera sanitaria insomma sono tutti aspetti che non è scontato che gli studenti conoscano la successiva slide è strategia per la crescita digitale 2016 quindi siamo ancora nel 2016 ma è preziosissimo questo questo volume datato 3 marzo 2015 che era un'indicazione delle strategie fino al 2020 può essere secondo me utile per capire cosa si è fatto cosa no e soprattutto per quanto riguarda questo aspetto cioè l'analisi SWOT analisi SWOT cioè strengths punti di forza weaknesses debolezza O sta per opportunities e T sta per threats cioè minacce quindi insomma questo volume che è stato scritto nel 2000 cioè ultimato modificato integrato nel 2016 è a mio parere di grandissima utilità quindi vi consiglio di scaricarlo passiamo poi ad una dimensione più europea quindi andiamo a il sito della commissione europea education che è questo e qui troviamo tutta una serie di studi indicazioni contributi sulle policy e sul quanto riguarda la competenza digitale in termini di skill di collaborazione di studio all'estero di metodi di insegnamento materiali cioè qui trovate veramente una miniera di risorse per i vostri studenti quindi io ad esempio ho scelto questa che mi interessava particolarmente dei metodi teaching methods and materials e qui vedete appunto il collegamento a due delle piattaforme che poi vi consiglio nelle successive slide cioè e-twinning e-school education gateway e-twinning è come sapete una piattaforma europea sta per gemellaggio elettronico che ormai conta 900.000 insegnanti 90.000 in Italia e-school education gateway è una comunità che fornisce sforna quotidianamente una serie infinita di corsi di aggiornamento ora sono online ma prima del lockdown tantissimi erano in presenza ed erano opzionati nel caso di mobilità prima Comenius e adesso ovviamente Erasmus più so che molti di voi insegnano in scuole che hanno realizzato dei progetti Erasmus più con successo e quindi io mi auguro che il bando che tra poche settimane uscirà e anche gli esiti dell'accreditamento 21-27 ci consentano di riprendere questa bellissima consuetudine del job shadowing che vorrei caratterizzasse anche questa formazione di educazione civica cioè la possibilità di affiancare dei colleghi all'estero e vedere come funziona questa formazione fuori dal nostro paese io vi faccio l'esempio della Germania perché ho condotto 20 scambi culturali con la Germania e qualcosa anche con la Danimarca con la Polonia con la Lituania che erano partner Erasmus ma più che altro conosco bene la Germania lì c'è una disciplina che si chiama Politik und Wirtschaft cioè politica ed economia e viene insegnata proprio secondo quelle indicazioni quelle linee guida che il ministro ci ha fornito per l'educazione civica quindi già da molti anni si parla di sviluppo sostenibile di cambiamento climatico di strategie per per un intervento efficace rispetto ai diritti umani ecco io lo spero vivamente che così digitando su School Education Gateway si possa anche opzionare corso in presenza per adesso ci sono solo corsi online il corso denominato e-pale che trovate qua Open Education Portal è più rivolto all'educazione per adulti quindi importantissima anche questa informazione per i genitori School Education Gateway che appunto ho appena citato lo trovate nella slide successiva quindi questa è la home page come fate a cercare un corso andate a semplicemente questa lente che trovate vicino vede che ci sono opportunità Erasmus Teacher Academy Risorse c'è una cosa bellissima andate alla lente digitate non so vedete queste sono le ultime mie ricerche perché ho fatto di recente la candidatura per l'accreditamento Erasmus del Liceo Gambara come consorzio e quindi questi sono i contenuti che mi sono giunti in questa pagina potete trovare link diretti ai webinar quindi anche in questo caso cliccate webinar e digitate non so digital citizenship anche search e vi arrivano non so quelli del mese quelli dell'anno annunci arte valutazione concetto di cittadinanza teacher teacher academy courses vi indica quelli più recenti quelli più imminenti quindi questo ad esempio parte il 29 marzo e ha un termine il 5 di maggio interessante perché è comunque una illustrazione di ciò che significa blended learning in practice e io ve l'ho indicata nella nella presentazione come possibile realizzazione della così concreta della formazione a cascata cioè un apprendimento misto blended pochino di presenza chiamiamola sincrona per adesso un pochino di asincrono ma molto anche lavoro in asincrono di documentazione di riflessione quindi commenti sui documenti condivisi dai colleghi ecco questo corso dà delle indicazioni su come organizzare una formazione blended quindi quella che io vi suggerisco di realizzare nelle vostre scuole vedete questa Bridget Distance and In School Learning la slide successiva è appunto la proposta declinata di quel corso quindi ad esempio il primo modulo è Explore Blended Learning quindi esplorare che cos'è questa formazione mista di cui tanto si parla e il secondo modulo fondamentale è quello del Designing and Planning leggendo il piano di questa formazione avrete senz'altro colto questa definizione in tutti i moduli della Designing Lesson perché si intendeva riprendere la metafora che è già presente nel 2013 nel volume Fare didattica con gli EAS di Piercesare Rivoltella dell'insegnante designer designer dell'apprendimento quindi nel modulo 2 che è quello che a noi interessa di più è quello che il modulo 2 ci indica la strada per un design del nostro curriculum di educazione digitale per un planning come fare come fare a dare delle indicazioni utili e concrete operative ai nostri colleghi e il terzo modulo è quello dell'implementazione quindi come disseminare come implementare e come cogliere quelle che sono le best practice da replicare e da condividere con colleghi la successiva slide vi dà lo start date quindi questo corso sarà avviato il 19 aprile quindi avete tempo insomma per indicarlo ai vostri colleghi e il successivo invece entra in un'altra dimensione cioè quella di parole ostili e entra in una dimensione concretissima cioè quella delle schede di attività cioè quello che secondo me andrebbe condiviso in questa formazione blended quindi vi invito a cliccare sul secondo link perché qui trovate probabilmente già le conoscete anzi quasi sicuramente delle schede didattiche organizzate da parole o stili virtuale e reale proprio in questi giorni è stato pubblicato il volume e io ho messo nel mio blog anche il link al primo capitolo quindi c'è il download gratuito del primo capitolo di virtuale e reale e qui trovate delle schede didattiche che secondo me potrebbero essere dei format utilizzabili nella formazione a cascata ovvero materia competenze chiave argomento punto del manifesto della comunicazione non ostile quindi stiamo parlando di media education quindi cittadinanza digitale ovviamente a 360 gradi domande fondamentali quando usiamo una comunicazione basata sulla rabbia come ci vediamo noi e come ci vedono gli altri può un insegnante ritrovarsi questa è una citazione da Pennac un po' più umano un po' più allegro un po' più libero un po' meno folle un po' più matto possiamo riflettendo prima di parlare esprimere gli stessi concetti ma mettendoci nei panni degli altri poi ci sono dei materiali quindi videoclip capitoli di di volumi appunto in questo caso signori bambini di Daniel Pennac modalità e tempi di lavoro quindi introduzione 5-8 minuti molto importante la tempistica visione dell'episodio due minuti lettura dei capitoli 30 minuti discussione confronto con le esperienze dei singoli allievi e del docente 15-20 minuti mi soffermo in particolare su questo slot delle modalità e tempi di lavoro perché è la difficoltà maggiore che io ho incontrato nel fare formazione sia con i neoimmessi sia quando mi occupavo di TFA con i tirociranti la tempistica quindi si perde molto tempo nel progettare il lavoro ma se ma è ben speso perché poi si realizza un lavoro in classe splendido si è più rilassati è chiaro che bisogna avere un po' di esperienza ma voi l'avete e quindi vi suggerisco di trasmettere ai vostri colleghi magari i più giovani a quelli che hanno meno esperienza la necessità di ragionare molto bene sui tempi quindi si perde sempre tanto tempo nell'encare anche nelle nostre programmazioni di classe gli obiettivi le competenze trasversali le finalità ma molto poco invece nell'andare nel dettaglio e vedere esattamente cosa si fa e per quanto tempo quindi io trovo queste queste schede davvero molto preziose così come quelle anche di twinning SOS didattica a distanza che sono pure riferite ai diversi ordini scolastici ulteriori attività di approfondimento e poi si passa alla scheda successiva quindi di nuovo un percorso interdisciplinare questa volta sull'influsso dei social network nei fatti di cronaca domande fondamentali materiali e fonti modalità e tempi di lavoro vedete che qui siamo a una argomentazione più ampia rispetto a visione integrale del film ad esempio quindi vedete voi se è opportuno vedere un trailer di 5 minuti a lezione e poi dare la consegna in asincrono della visione del film assolutamente sconsigliato vedere tutto il film con i ragazzi cioè se noi abbiamo una lezione a maggior ragione se a distanza di 40 minuti dobbiamo dedicare al massimo 5 minuti di video non di più ulteriori attività di approfondimento qui ad esempio si consigliava Padlet che è uno strumento che purtroppo ha a disposizione pochi artefatti se volete utilizzare io ve ne ho linkati tantissimi poi vi darò link a tutti i Padlet che ho realizzato durante la formazione estiva dai diversi docenti ovviamente a voi interesserà il secondo grado ma dicevo se volete accedere ad uno strumento di bacheche virtuali gratuito vi consiglio Linoit Linoit è gratuito è meno performante di Padlet ma è comunque inclusivo è molto è molto utile quando si fa brainstorming quando si vogliono raccogliere i contributi di tutti come ulteriore attività di approfondimento si consigliava una breve relazione su tutta l'attività svolta quindi si può fare un digital storytelling con Adobe Spark con Canva con Beautiful Eye un breve testo realizzato dal punto di vista di Tony Harding quindi come mi sono sentita leggendo i post relativi alla mia vicenda analisi sistematica e classificazione questo lo trovo particolarmente geniale dei post prodotti dalla classe allora tutti i post raccolti in Padlet io li classifico in base a tipologia livello di aggressività aspetti linguistici liceità questo è un lavoro metacognitivo secondo me preziosissimo e via dicendo vedete che c'è anche per vostra per vostra felicità il latino Cicerone Agostino Aristotele dizionario della lingua italiana quindi le varie poi le schede sulla responsabilità digitale e via dicendo io e l'altro sono davvero bellissime per fare una chat di gruppo serve un regolamento le parole creano le parole distruggono sappiamo bene a cosa ci stiamo riferendo a un'affermazione di una vittima di cyberbullismo che come sapete ha affermato che le parole fanno molto più male delle botte e anche qualcosa in CLIL quindi io promuovo assolutamente anche se voi siete di disciplina linguistica però insomma una collaborazione con i vostri colleghi per un per un lavoro CLIL su questo che è veramente autentico storie di ordinario sessismo chi odia velena anche te digli di smettere non è roba da maschi belle ma brave questo è relativo allo sport le parole sono armi e qui trovate tutte le trovate il manifesto qui tutte le persone i docenti che hanno collaborato bravissimi e il manifesto della comunicazione non ostile che vi invito a condividere con tutti i vostri colleghi e i vostri studenti ma proprio da mettere nel sito se ancora non è presente ma penso proprio di sì nel PTOF quindi virtuale reale il libro che è appena uscito è il primo punto del manifesto della comunicazione non ostile dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona la secondo punto è si è ciò che si comunica le parole danno forma al pensiero prima di parlare bisogna ascoltare le parole sono un ponte le parole hanno conseguenze condividere è una responsabilità le idee si possono discutere le persone si devono rispettare gli insulti non sono argomenti anche il silenzio comunica quindi quando la scelta migliore è tacere e questo era quanto riguardava parole ostili la slide successiva è relativa appunto alla scuola primaria o scuola dell'infanzia mentre redesigning the curriculum è un'indagine che non aprirò adesso ma così un approfondimento che vi suggerisco a livello europeo quindi di nuovo la commissione europea che si è interrogata su questo su questa espansione del curriculum ma questa espansione del curriculum si chiede la commissione europea sta significando un overload cioè considera in modo molto saggio a mio parere quanto questo continuo fluire di contenuti di informazioni di nuove competenze eccetera sia compatibile con la competenza socio emotiva dei nostri studenti quindi è secondo me un'importante indagine e bisognerà poi seguire anche fare il follow up vedere come si ragionerà in termini di counseling rispetto ai risultati perché noi ci siamo dentro secondo me anche con questa introduzione dell'educazione civica la stiamo vivendo male mentre l'educazione civica come dicevo in introduzione è assolutamente nel dna dei nostri insegnamenti quindi il fatto che si debbano tra virgolette fare queste 33 ore cioè ragioniamoci ragioniamoci vi ho proprio a livello più che altro per i ragazzi per una magari per un'unità che volete fare di educazione civica vi ho messo il link a Europass per far capire loro che la competenza digitale deve essere ben descritta nel loro curricolo quindi tutto ciò che loro impareranno anche di particolare non so io poi vi farò vedere un un podcast di un'alunna della mia quinta che ha spiegato ai suoi compagni discord e alcune app per tagliare podcast realizzare una web radio lei metterà sul suo curricolo tutti questi applicativi che lei padroneggia quindi non semplicemente come si faceva prima del lockdown competenza conoscenza del pacchetto office conoscenza dei principali no adesso bisogna andare sul preciso sul definito io so usare l'applicativo Spreak per produrre podcast so usare Adobe Spark per produrre video digitali so presentare con Beautiful Eye Eye sta per intelligenza artificiale ecco la slide successiva e sono quasi in conclusione di questa seconda registrazione linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole quindi parliamo di e-policy il nostro istituto ha proprio ieri ricevuto l'attestato di scuola virtuosa e io vi invito a iniziare prima possibile questo percorso che terminerà nel giugno del 2021 con generazioni connesse quindi questi sono link utili questo ad esempio è il link alle linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole molto molto utile il link successivo è invece un un lavoro pubblicato il 2 di marzo quindi recentissimo leoni nella vita vera o solo dietro ad uno schermo quindi sempre riguardante il cyberbullismo voi sapete che ci sono anche supererrori da molto tempo più usati magari per il biennio o per il primo grado comunque piacciono anche i ragazzi per fare peer education quindi quando i miei ragazzi di quarto o quinta fanno peer education al biennio utilizzano i supererrori di generazioni connesse quindi come si fa per avviare un percorso allora questo è il sito di generazioni connesse qui c'è il mio ingresso come docente mentre sull'altro browser c'è l'ingresso come dirigente scolastico quindi adesso io vado ah è rimasto loggato ok questo è l'ingresso nell'area riservata concesso solo a dirigente quindi io mi sono fatta gentilmente dare le credenziali dal mio dirigente per indicarvi qual è il percorso quindi la scuola si deve registrare può farlo solo di S o di SGA come prima cosa si scarica la guida che è molto molto precisa vedete il termine ultimo per il caricamento è il 30 giugno 2021 ricordatevelo e i passi successivi sono la compilazione del profilo la creazione del gruppo di lavoro e ovviamente la redazione dell'iPolicy quindi profilo di istituto consiste nell'indicare adesso non voglio rubare la privacy del mio dirigente comunque chi è il dirigente chi è l'animatore digitale referente bullismo per noi è la professoressa Marta Cappelluti e secondo referente bullismo è il secondo collaboratore del preside che è Patrizia Greggio dati strumentazioni quindi quante classi quindi quando vi accostate alla redazione di questo profilo sono dati che dovete avere sotto mano quindi numero classi numero docenti numero studenti maschi femmine disabili studenti con cittadinanza non italiana e successivamente la strumentazione quindi laboratori informatici LIM dispositivi digitali rete internet rete wifi tipologia software la scuola registro elettronico la scuola cablata la scuola appartiene a una o più reti virtuali per lo scambio di progetti e buone pratiche esempio i twinning scuola partecipa comunità di apprendimento tramite piattaforme online ecco una volta ultimato questo profilo e spedito quindi inoltrato tutto online per favore non copiatevi questi codici perché sono i nostri personali non fotografate grazie vengono generati dei codici per corsisti genitori docenti e studenti questi codici consentono l'accesso alla formazione quindi una volta che la scuola ha compilato il profilo può consegnare ai docenti e ai genitori rappresentanti dei genitori in consiglio d'istituto e ai rappresentanti degli studenti queste credenziali quindi si entra e si fa formazione accedendo da quel portale da cui accedevo sull'altro browser quindi su questo browser ho l'accesso da dirigente sull'altro da docente sono due interfacce diverse molto interessante da fare all'inizio di questo percorso è il questionario di autovalutazione che consiste in una prima parte sulla conoscenza abilità integrazione TIC nella didattica una serie di domande vedete queste sono le nostre risposte e partiamo dalla così potete scaricare qui il pdf facciamo così così non vediamo le nostre risposte se scaricate il pdf trovate le domande che poi affronterete online quindi una cosa utile è quella di scaricare il pdf condividerlo col gruppo di lavoro e con tutte le componenti che desidereranno compilare con il referente cyberbullismo questo questionario sono tantissime le domande per cui io davvero adesso mi soffermo soltanto sulla parte quindi parte A come dicevo poco fa competenze digitali integrazione TIC nella didattica la parte quindi domande tipo considerando la figura dell'animatore digitale qual è il suo ruolo parte B sistema valoriale atteggiamenti attitudini quanto siete d'accordo con le seguenti affermazioni esempio la nostra scuola facilita la partecipazione al confronto tra studenti genitori e docenti da molto a per niente la parte C rischi di un uso non consapevole delle TIC e prevenzioni quindi anche in questo caso quanto siete d'accordo la rete internet deve essere dotata di tutti i requisiti per garantire uno standard da molto standard di sicurezza da molto a per niente a scuola si accede a internet come? Negli ultimi due anni nella nostra scuola sono state proposte attività specifiche in merito a un curriculum per lo sviluppo delle competenze digitali in merito all'esistenza di una e-policy quanti del corpo docente sono d'accordo con le seguenti affermazioni cioè ritenere prioritario lavorare sulla prevenzione esempio parte D incidenti e abusi relativi ai rischi online rilevazione gestione e monitoraggio quindi a che punto è la scuola per poi avviare naturalmente tutta la formazione a che punto è rispetto a prevenzione di rischi come il sexting come revenge porn l'adescamento online come vengono rilevati e monitorati dal mio istituto gli episodi quindi esiste un modulo per la rilevazione anonima esiste uno sportello di consulenza anche gestito da pari io in Germania l'ho visto in diverse scuole uno sportello gestito da pari formati che avevano fatto tutto il loro percorso e che erano in ascolto dei loro compagni naturalmente solo ascolto loro poi segnalavano al referente cyberbullismo dell'istituto il quale poi si riservava di decidere se inoltrare la pratica ad uno psicologo o alla polizia postale comunque non erano i ragazzi a decidere questo cioè loro ascoltavano e questo lo ritengo davvero molto prezioso si parlava anche prima con Veronica a piede della peer education ci credo tantissimo anch'io ecco qua questa è la parte finale in cui deve essere indicata bene la componente cioè chi ha compilato questo questo modulo quindi numero di docenti che hanno contribuito a rispondere al questionario numero di plessi numero di genitori che hanno eventualmente contribuito a rispondere numero di studenti e studentesse che hanno eventualmente contribuito a rispondere al questionario il dirigente ha contribuito sì no ecco questo era per quanto riguardava ecco cliccando qui potete prima della valutazione il questionario di valutazione c'è poi naturalmente un questionario finale che si fa che si compila al termine di tutto il percorso cioè una volta che sia docenti che studenti che genitori hanno effettuato il percorso c'è un bellissimo e chiarissimo tutorial su come procedere sia da parte dei referenti policy che del gruppo policy che del dirigente scolastico e poi qui vedete c'è lo spazio per il documento policy noi l'abbiamo completato il 30 di novembre che era la scadenza dell'anno scorso abbiamo ricevuto come vi dicevo poco fa l'attestato di scuola virtuosa eccolo qua di cui siamo molto orgogliosi e poco sotto una volta che l'avete caricato potete in qualsiasi momento di nuovo ritrovare la vostra e policy che è così costituita e poi chiudo adesso si sta caricando è costituita da una parte uguale per tutti gli istituti che hanno aderito alla rete di generazioni connesse ed una parte invece con le strategie singole dell'istituto ecco ci sta impiegando un po' di tempo forse perché ho molte cose aperte poi comunque ve lo linko nella cartella ecco qua vediamo se se si spiccia eccolo qui ok questo è il documento i policy del liceo del liceo gammara capitolo primo introduzione al documento i policy tutto questo che voi vedete è già scritto da generazioni connesse cioè già incorporato nel vostro documento quello che voi siete invitati a condividere con il gruppo qualora voi vogliate assumervi l'onere di essere referenti policy o cyberbullismo è questo cioè per ogni capitolo c'è il nostro piano d'azioni io ad esempio ho effettuato nella mia classe me lo confermeranno sia Paola Castiglia che Oriana Migliacca dei laboratori di dieta mediale e questo l'ho indicato nelle azioni da svolgere nei prossimi tre anni azioni di sensibilizzazione ad esempio il 17 di marzo io incontrerò sia studenti che docenti e genitori e spiegherò cos'è l'ipolicy e così via quindi per ogni capitolo ci sono queste diciamo questi spazi per la creazione di una strategia condivisa all'interno dell'istituto ritorno brevissimamente alle tematiche quindi qui trovate anche un glossario di riferimento questo è il glossario cui facevo riferimento nel piano di formazione assolutamente completo e ineccepibile cioè questa è soltanto la prima pagina quindi una fonte inesauribile la trovate cliccando alle tematiche i super errori cui accennavo prima sono una serie di brevissimi video a fumetti davvero molto efficaci formazione questo è il link che ogni docente genitore o studente vedete c'è la possibilità di un ingresso distinto che voglia appunto intraprendere questa formazione le news quindi questo è un bellissimo progetto che vi ho messo in presentazione hashtag project progetto di sensibilizzazione contro le discriminazioni di genere nelle comunicazioni digitali che avrà una conclusione il 7 aprile per cui qui trovate tutte le indicazioni le richieste di adesione a questo progetto devono arrivare entro il 12 marzo per cui segnatevelo perché la data è imminente e tutte le indicazioni le trovate appunto digitando hashtag project anche nel web senza entrare in area in area riservata ok penso in questo momento di poter rientrare in meet se lo trovo tra tutti i vari link che ho aperto e interrompo la presentazione nonché la registrazione di questa seconda parte ringraziando per l'attenzione la registrazione nonché 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 nonché